Un opificio artigianale abusivo composto da sofisticati macchinari professionali ed apparecchiature informatiche destinate alla realizzazione di loghi di famosi marchi e numerosi capi di abbigliamento pronti ad essere falsamente etichettati e commercializzati soprattutto online. Tre persone sono state denunciate per contraffazione di marchi. Gli indagati, tutti messinesi di 38, 42 e 64 anni, avevano allestito una vera e propria stamperia clandestina dotata di tutta la strumentazione necessaria per trasformare anonimi capi di abbigliamento in prodotti griffati. Trovate anche 736 etichette termoadesive con il marchio di prestigiose case automobilistiche e motociclistiche predisposte per essere apposte sui capi di abbigliamento, 55 capi già confezionati per essere immessi sul mercato e 2000 capi circa, tramaglie, felpe e accessori vari pronti per la stampa. Sequestrati i capi contraffatti, le etichette e l'abbigliamento non ancora etichettato, nonché tutti i macchinari destinati all'attività illecita e perfino l'immobile, il tutto per un valore complessivo di oltre 150 mila euro.